musica questo che cosa vuole mo a quest'ora pronto? pronto amore? ehi com'è stato? tutto bene? tutto bene ma perché mi stai chiamando? no siccome stavo leggendo il giornale e ho letto una notizia molto particolare praticamente è affondata una petroliera e c'è stata una strage di cozze e vabbè scusa che c'entro io? no volevo sapere come stavi capito? ehi a te putca a te nella faccia di gorgione ha fatto su ehi so la ponte ehi mocio venga a casti a stacca la malandra ehi so la ponte ma ti ha fatto una brutta a fine va a dire va ti giochi